Si sarà rimpicciolita col tempo. Sono passati milioni di anni, quindi... Questa cosa non ha alcun senso. Tranquilli, so come rimediare. Con la chiave Dino Crescita, vostra solo per oggi a un prezzo mai visto. È di nuovo in fissa con i canali commerciali. Sicuro che funzionerà? Certo, ma devo farlo io. Paka si fida di me. Ci conosciamo da sempre, vero, bella? Tornerai gigantesca in un batter d'occhio. Tranquilla. Ferma. Ingrandimento! Wow, bel colpo!